Questa è la carta intestata del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Genova, indirizzata al Segretario Provinciale della Fion CGL. Oggetto Collegio di Vigilanza Ilva, incontro 4 febbraio. In relazione all'incontro, convocato presso il Ministero dello Sviluppo Economico per il 4 febbraio prossimo, si comunica che in rappresentanza del Governo parteciperà il Sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Senatrice Simona Vicari. Questo è l'obiettivo che avevamo, questo è l'obiettivo che abbiamo raggiunto. Grazie a voi, alla vostra lotta contro tutte le bugie che ci hanno detto in questi giorni. Andiamo all'incontro, coscienti che l'incontro è l'inizio, non è la fine della trattativa, è l'inizio, ma ci andiamo a confrontarci per il rispetto dell'accordo di programma. Il posto di lavoro non si tocca, lo ripeteremo con la lotta. Il posto di lavoro non si tocca, lo ripeteremo con la lotta. Allora adesso, come nostra abitudine, torniamo indietro in corteo. Lo ripeto, lo ho detto prima, abbiamo i mezzi in mezzo alla strada. Siamo persone irresponsabili, non siamo né persone violente, né persone che hanno mania di protagonismo. Come qualcuno ha detto nei giorni storzi. Questi noi continueremo e perderemo indietro in corteo da persone, da lavoratori, disciplinanti e coerenti. Ma se serve riprenderemo la lotta. Andiamo dietro lo stracione.